E Dio, Giuseppe, stavo camminando, ed ecco non camminavo più. Guardai per aria e vidi che l'aria stava come attonita. Guardai la volta del cielo e la vidi immobile, e gli uccelli del cielo erano fermi. Guardai per terra e vidi posata lì una scodella, e degli operai sdraiati intorno con le mani nella scodella, e quelli che stavano masticando non masticavano più, e quelli che stavano prendendo del cibo non lo prendevano più, e quelli che lo stavano portando alla bocca non lo portavano più. Ma i visi di tutti erano rivolti in alto. Ed ecco delle pecore erano condotte al pascolo e non camminavano, ma stavano ferme, e il pastore alzava la mano per percuoterle col bastone, e la sua mano restava per aria. Guardai alla corrente del fiume e vidi che i capretti tenevano il muso appoggiato e non bevevano, e insomma, tutte le cose, in un momento, furono distratte dal loro corso. Ericsa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace intera agli uomini di buona volontà. Noi ti odiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio, Patria omnipotente. Signore, figlio di genito, Gesù Cristo, Signore Dio, anello di Dio, figlio del Padre. Signore Dio, Re del Cielo, Gesù Cristo, Signore Dio, prego per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Gesù Cristo, Signore Dio, prego per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, prego per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, prego per la tua gloria immensa.